Ciao a tutti gamers e bentornati dal vostro Nilux Riprendiamo un attimo Tekken 7 Poiché nel finale mi si è sbloccato un nuovo evento della storia della saga dei Mishima È un evento che riguarda Kazuya e Akuma Non so cosa, sicuramente dovremmo combattere Ma non so cosa succederà onestamente perché mi sono ritrovato un po' spiazzato È un evento forse aggiuntivo dato che l'ho acquistato al day one Quindi penso che sia relativo a quello Vabbè, poche parole solo fatti Iniziamo subito questa parte qui Questo nuovo evento Come sempre gamers un bel pollicione in su per poter supportare il canale Mi raccomando è molto importante Se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi per vedere nuovi titoli Nuovi video che porterò sicuramente sul canale Infine gamers per tenervi sempre aggiornati Vi invito a cliccare la campanellina in alto a destra Ovvero il tasto di notifica Così almeno quando io carico un video Pamma, vi arriva subito un bel messaggio Ovvero una notifica che vi dice che io ho appena aggiornato il canale Ma aggiornamenti che possono essere di qualsiasi tipo Bene, direi di cominciare subito Senza troppi fronzoli Andiamo avanti Eccoci qua Special match Non so cosa cacchio debba fare Non so se devo usare Akuma o Kazuya Massacre Ah ok subito dopo che Kazuya ha lanciato nel vulcano Cioè nella lava Ayachi Ah si è già trasformato Orco cane che lotta Cioè praticamente la lotta di due demoni E hai ragione amico mio Che tu Akuma sia una bomba Porco bue Guardalo lì Ma quanto cazzo è figo Guardate che a me piacciono tutti Uh Ulla Posso pararmi? Sì Oh mi Ma che cacchio È velocissimo Guardalo Uuuuh E questo lato l'ho beccato io però Ma si ripiglia la vita? Ah no beh Allora date che è un demoni anche lui Eh che mosse Kasuia che mosse Uh non so cosa che ho fatto però Sto facendo le mosse a casaccio Perché Devil Kasuia non l'ho mai utilizzato E comunque fa di quelle mosse stupende raga Dai Mamma mia cosa gli ho fatto? No 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 Uh Ma come fa ad essere così veloce? Perché sei così veloce? Uh Attento Parti Dai Uuuuh Ma è una bomba comunque No Porco bue Problema che lui fa gli attacchi a lunga distanza Con le onde lì Ma guardalo che roba Dai Oh Dai piglia Dai piglia Dai Vediamo ma che succede Dai 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 Uuuuh E adesso E adesso E adesso E' E adesso E' Mamma mia E com'è andato a finire? Non so che dire ragazzi È finito così Eh sì L'ultimo capitolo Capitolo speciale Ma che dire ragazzi Sono rimasto un pochino Un po' sorpreso E Boh Mi è piaciuto tantissimo Questo scontro tra Akuma E Devil Kazooia Ma è davvero una figata Cioè non me lo sarei mai aspettato davvero Vabbè gamers Se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciarmi un bel pollicione in su Per poter supportare il canale Mi raccomando È molto importante Se non siete iscritti Iscrivetevi Per vedere nuovi video E nuovi titoli Che porterò sicuramente sul canale Bene Direi che possiamo salutarci qui Un salutone qui da vostro Ninox di Gamer E ci vediamo al prossimo video Ciao gamers